Una pull non inaspettata perché ci credevo, volevo fare bene perché ho cambiato team dopo un po' di chiacchiere che sono stato in giro che avevo un motore superiore agli altri perché per tanti motivi oggi bello ho dimostrato perché da privatissimo perché insieme a Giacomo e Emiliano Taranghelli, Team Flowers abbiamo fatto un lavoro strepitoso. La pull sono strepitoso, sono contentissimo perché sono emozionato e questa pull mi dà tanta forza per andare in finale. Per ora la pull siamo all'inizio ma il mezzo mi sembra funzioni bene, tutto a posto, speriamo di continuare.